Negli anni 80 Steve DeShazer rivoluzionò la consulenza psicologica e la psicoterapia. Se fino a quel momento ci si era concentrati su il problema, sul disturbo, su come funzionava, sull'indagine delle cause o sui meccanismi che lo mantenevano in atto, DeShazer e il suo gruppo andarono a orientarsi, a identificare come sarebbe stato il futuro della persona nel momento in cui il problema non ci fosse stato più. È la nascita della terapia breve centrata sulla soluzione che oggi l'Istituto ICNOS, l'istituto di formazione in terapia breve nato dal nostro Italian Center for Single Session Therapy, insegna in Italia. Si inizia a parlare un po' di più anche in Italia, fortunatamente, già se ne parlava negli anni 80 ma adesso un po' di più, nonostante ad oggi nel mondo sia un approccio diffusissimo con 11 meta-analisi, più di 80 review sistematiche e centinaia di ricerche evidence-based. E questo video è per dirti che per la prima volta in Italia abbiamo elaborato un workshop che ti permette di apprendere il modello step by step e di applicarlo alla consulenza psicologica se sei uno psicologo o alla psicoterapia se sei uno psicoterapeuta. Il workshop dura due giorni e come tutti i nostri workshop è altamente pratico. In due giorni apprendi esattamente il modello che potrai mettere in pratica già una volta finito il weekend. Ma detto questo, come funziona? In sintesi, la terapia breve è centrata sulla soluzione. La base del modello, l'inizio, è quello di chiedere alla persona quali siano le aspettative che ha della terapia, per poi orientarla a descrivere uno scenario futuro, per l'appunto, senza il problema, nel momento in cui quelle aspettative saranno già realizzate. Proprio a immaginare e descrivere quel futuro. Immagina che con delle domande specifiche la persona non si limiterà a descrivere il futuro desiderato, ma proprio a risignificare le esperienze che già sta vivendo. A questo punto la orienti a ciò che sta funzionando già nel presente, attuale, utilizzando la tecnica della scala, che forse avrai già visto in qualche mio altro video. La descrizione di ciò che sta funzionando ora serve a elicitare delle sue risposte e a portarla all'ultimo step. Infatti si chiede di descrivere il gradino successivo della scala, come sarà, quali saranno i segni di miglioramento, non tanto per chiederle di andare a fare quelle cose, ma semplicemente per descriverle, per andare a cogliere i primi indizi del futuro, le prime possibilità dell'assenza del problema. Il modello, come vedi, è facile, ma non semplice. È un modello altamente dialogico, basato molto sulle domande che devi fare alla persona e su un ascolto attento delle parole che usa. Il workshop è proprio strutturato per farti diventare abile a costruire le domande migliori per aiutare la persona a creare questo scenario senza problema, andando poi, una volta fuori dallo studio del terapeuta, a costruirlo quasi automaticamente. Se te lo stai chiedendo, la terapia breve è centrata sulla soluzione e funziona per qualunque tipo di problema. Infatti ci sono studi che mostrano la sua efficacia con i disturbi d'ansia, i disturbi dell'umore, addirittura i disturbi di personalità o le dipendenze, nonché nel lavoro con famiglie, bambini, adolescenti e ovviamente con l'individuo. È un approccio rispettoso che mette al centro la persona e estremamente breve. La maggior parte delle volte dura meno di 10 sedute, spesso addirittura meno di 5. Insomma, spero di averti dato qualche informazione e averti incuriosito un po'. Tra poco ci sarà il workshop che è limitato a un numero veramente ridotto di persone perché essendo una formazione pratica abbiamo bisogno davvero di seguire ogni singola persona per permettergli di apprendere il modello in una maniera efficace. Se ti interessa, manda una mail a info-istituto-iknos.it oppure vai sul sito www.istituto-iknos.it e speriamo di vederci al workshop. www.istituto-iknos.it